Siamo qui con Cesare D'Ondero, volevo chiederti se sei contento del risultato e se la tua squadra potrà fare di più? Diciamo che vedendo un po' tutta la situazione, essendola stata la prima partita dopo sei mesi con un avversario come la Querese, credo che abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo. Dispiace perché se non avessimo preso gol subito dopo tre minuti, credo che la partita sarebbe finita da parte nostra. Mi dispiace, però credo sia un punto comunque importante che ci aiuta morale, ci dà morale. Un po' di dispiace a te, però guardiamo il bicchiere pieno. Credo che abbiamo anche altre cinque finali, possiamo arrivare tra le prime quattro e sono fiducioso, la squadra sta bene. Abbiamo tanti ragazzi, anche quelli nuovi sono integrati bene, quindi sono fiducioso. Ti ha lasciato la partita, tornai in campo oggi dopo tanto tempo, è un segnale molto positivo. Ma sì, diciamo di sì, un po' per noi perché avevamo tanta voglia di tornare al pallone e speriamo di poter essere il traino per tutto il momento esilettante in modo tale che poi il prossimo anno si possa ripartire a pieno regime. Grazie.